Il sindaco De Magistris ha visitato questa mattina il liceo artistico Boccioni-Palizzi della mostra d'oltremare. Nel corso dell'incontro avuto con docenti e studenti, il sindaco ha ribadito la sua ferma volontà che questo liceo, luogo di ingegno e creatività, non venga spostato, essendo da anni un punto di riferimento del territorio. La mostra d'oltremare dovrà essere sempre di più un luogo pubblico aperto alla città e soprattutto ai giovani, dove poter realizzare iniziative artistiche, culturali ed intrattenimento.